Salve YouTube, questa è una puntata di MotoGP 2015 Allora, vediamo dove dobbiamo andare oggi di bello Dobbiamo andare a Aragon Espanà Ok Andiamo e ci rivediamo in Polifica come al solito Buongiorno, buongiorno da Aragon Qui tutto è Ok, siamo pronti per la prova Scusate Ho fatto la qualifica Non è stata entusiasmante Adesso vediamo di fare meglio La pista non è male Questa stessa Mette insieme delle parti veloci Con le parti estremamente Con la prima curva qua Che è una curva veramente Veramente assassina Qui si può andare abbastanza abbastanza Qui c'è un'altra Pure abbastanza lenta Per dobbiamo avversi Un altro momento Quella pole è intorno ai 2 nuclei 2 Adesso facciamo il dashcam non riscede abbastanza lente si può aprire un po' un troppo accattura abbastanza lente anche questo è il contro rettino di box ovviamente molto lungo che porta poi ad un doppio ruolo finale per ripienere la pietra intervoce in giro con il vediamo lì vediamo lì vediamo lì due due tre dentro vedete quella curva qua vedete è assassina bisognava impiudare non vedo male in partenza regala no non ha ammazzato qualcuno perfetto no che anche se io li so i cordoni ti uccido i cordoni l'accuso è diventato l'accuso è diventato un uomo all'accuso è diventato più 6 secondi ciao va bene signori io continuo a fare qualche giretto ancora della nostra scomunitaria posizione ci rivediamo in gara un buongiorno buongiorno dal circuito di Aragon dopo i due appuntamenti di Catalunia e Rez il moto mondiale torna in Spagna per la quattordicesima gara del mondiale moto 3 il tempo è sereno e le temperature sono perfette per correre quindi restiamo in attesa solo di capire chi tra i piloti ha optato per le gomme dure e chi invece per quelle morbide eccoci qua, stiamo venuti in gara partiremo dalla sesta posizione e... in gara non pretendo il podio sto il giro perché si vede già che i nostri amici sono abbastanza incazzati ma speriamo che facciamo qualche ciocco in partenza partiremo dalla sesta posizione grazie ecco la gara che stiamo a portare ahi ho fatto la fiamma La gente è iniziata. La gente è iniziata. La gente è iniziata. e non ciò che è andato a due ruolo Grazie a tutti 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 Sto schiando tutto Questo pico davanti siano irraggiungibili Apri tutto Quasi Ancora un giro Bye bye